Parassiti di piccole dimensioni, di colore scuro, che si nutrono di sangue. Stiamo parlando delle zecche. Si possono incontrare nei boschi e ai bordi dei sentieri, nei prati, nei campi incolti, in parchi e giardini. Non saltano e non volano. Si appostano all'estremità delle piante e aspettano il passaggio di animali e persone. La puntura di zecca può essere pericolosa per l'uomo. Tanto bisogna entrare nell'ottica che questi incontri ravvicinati saranno sempre più frequenti, visto anche i cambiamenti climatici, soprattutto il caldo umido che favorisce l'incremento di densità di questi animaletti e soprattutto gli inverni molto miti. Quando la zecca si attacca, come rimuoverla? Per la rimozione bisogna stare anche molto attenti perché il primo istinto è quello di schiacciarla piuttosto che di versare su o addosso alla zecca anche dei materiali tipo alcol piuttosto che olio che non fanno altro che irritare l'animale il quale rigurgita e quindi favorisce ancora di più la trasmissione di eventuali malattie. Quindi il consiglio è quello di prendere una pinzetta e di prendere con particolare attenzione tutta la zecca, compreso il rostro, quello con cui si incunia nella nostra cute e con piccole manovre di rotazione cercare di estrarre la zecca. Quali malattie può trasmetterla a zecca? Alle nostre latitudini la malattia più frequente è la malattia di Lyme che è una malattia di cui tra l'altro noi stiamo assistendo a un incremento notevole perché dai tre casi del 2017 siamo passati ai 20 casi del 2018 e già nel 2019 abbiamo una quindicina di segnalazioni e di notifiche. Diverse le zecche analizzate nella sede di Sondrio dell'Istituto Zooprofilattico di Lombardia ed Emilia-Romagna. Quindi è importante conferire poi le zecche per poter essere analizzate? Certamente, noi come Istituto Zooprofilattico Sperimentale abbiamo competenza in campo veterinario da anni ormai analizziamo le zecche. State monitorando anche le zanzare? Possono essere potenzialmente pericolosi per la diffusione di malattie che una volta erano considerate esotiche e che invece, ahimè, sempre più di frequente vengono registrate anche sul territorio nazionale. A novembre in Valtellina si terrà un convegno dedicato al problema zecche che coinvolgerà i medici attivi sul territorio.